Ange, tu sei un angelo che lavora al cielo? No, un angelo benvenuto a me, benvenuto a me, benvenuto a me, Gesù mi aspettava, non da 5 minuti, no, mi aspettava da tanto tempo, perché lui ha combinato tutto, sapete perché? Perché? Da sempre, io mi ha confluito. Oggi completate tutto questo cammino, accettando, accogliendo, vivendo l'amore di Gesù. Ora noi faremo così, il sacerdote è semplicino agli esposi, intingeremo la vita nell'acqua benedetta e faremo segno di croce. Allora, voi siete venuti qui, siete messi davanti a Gesù, perché volete nessuno. Dice, non preoccupatevi, non fatevi preoccupare, mi invito a destra e anzi, io vi porto un esempio. il Cottoletto, a Torino, a Torino, da circa 150 anni, c'è il Cottoletto, che è un'istituzione, Giuseppe Cottoletto, un santo, il quale è un ragazzone, avendo incontrato malati, ora vedevo, prendete a casa un ragazzo. Io, Angelo, accolgo te, Rosi, come mia sposa. Con la grazia di Cristo, prometto di esserti fedele sempre. Nella gioia e nel dolore. Nella salute, nella volontia. E di amarti e onorarti tutti i giorni della mia vita. Nessuno possa separare ciò che Dio ha unito. Amen. Angelo, mi scelgo quest'arello. Segno del mio amore e della mia fedeltà. A Torino, mio figlio, che te lo spirito. Un signore applauso. A Torino, mio figlio, che te lo spirito. 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 A Torino, mio figlio, che te lo spirito.